Come hai scoperto la fibrosipa umanale idiopatica? Ho la fibrosipa umanale idiopatica da 10 anni e con gli anni e connessi ho scoperto per puro caso una bronchite polmonite. Il medicurante mi dà dei medicinali per poter curare la bronchite. Dopo 30 siringhe il problema non viene risolto. Dopodiché il medico curante mi consiglia di contattare un pneumologo. Vengo al Monaldi, contatto il pneumologo che all'epoca era il dottor Sofia e mi dice metti le mani sulla scrivania. Al momento in cui metto le mani sulla scrivania mi dice lei ha una fibrosi. Ogni due mesi venivo qua a controllare. La fase era sempre peggiorata ma non andava mai migliorata. È stata stabile per 5-6 anni. e negli ultimi 4-5 anni è fatto proprio un calo ponderale proprio al massimo. Tra cui oggi sto in lista di attesa a Torino per avere un trapianto. Purtroppo la nostra malattia per poter sopravvivere, anzi per vivere, ha bisogno solo di un trapianto. Tutti i medicinali che prendiamo servono solo per poter stabilizzare un pochettino. Quando il dottore Sofia mi disse che aveva questa IPF non capivo nemmeno che cos'era questa IPF. poi man mano, tra i dottori e il computer, mi sono aiutato a vedere questa malattia che consisteva e che consiste. Aspetta un attimino. E psicologicamente proprio catti, proprio moralmente e anche fisicamente. Incominciarono poi la tosse, anche con i familiari, logicamente ormai oggi si sono abituati alla mia tosse continua. Non puoi fare un po' di sport perché sei debilitato per poter fare una corsa, fare una corsa in bicicletta, non puoi fare niente. E questo comunque psicologico a me mi ha buttato proprio a terra perché comunque non puoi fare niente. 10 anni fa diciamo che mentalmente stavo bene, oggi mentalmente non sto bene perché psicologicamente ti abbatte. Perché vedi altre persone cosa possono fare e tu quelle cose che fanno loro purtroppo non le puoi fare. Stiamo cercando di avere questo trapianto per poter proseguire il nostro cammino. Faccio parte di un'associazione che si chiama Respirare Campania. Sono il consiglio di amministrazione e stiamo cercando di lottare per avere un sostegno dallo Stato perché comunque è una malattia rara. Computazione. Vi saluto.